Prego, collega Occhione. Grazie, Presidente. Prendo la parola per sottoporre l'attenzione dell'Aula a una questione che mi è particolarmente cara e che riguarda il caso della Biblioteca Albino di Campobasso. Bene, Presidente, per tanto tempo la Biblioteca Albino è stata il cuore culturale e sociale non solo della città di Campobasso, capoluogo di regione del mio Molise, ma di tutta la nostra regione. Ebbene, purtroppo è chiusa da tre anni e ha costituito un servizio fondamentale, essenziale per tantissimi cittadini che la frequentavano abitualmente, ma soprattutto per tanti giovani, giovani studenti che erano soliti frequentare davvero per l'approfondimento degli studi e per placare la sete di conoscenza e di sapere la Biblioteca Albino. E soprattutto in questo momento storico, in cui è sempre più forte il bisogno di cultura, al quale fa da controcanto un linguaggio troppo aggressivo, retrivo, retrogrado, puntare sulla cultura sarebbe un'azione lungimirante, anche per noi che ci occupiamo di politica, e soprattutto sarebbe un'azione utile per il nostro Paese in generale, e in questo caso per il mio Molise, per la città di Campobasso. Purtroppo, dicevo, la Biblioteca Albino è chiusa da tre anni e da una prima gestione di competenza provinciale a seguito di un accordo tra Comune, Provincia e Ministero è passata la gestione del MIBAC. Da quel momento in poi la Biblioteca è rimasta chiusa, nonostante le rassicurazioni del Ministero che avevano promesso alla nostra Regione un'apertura accelerata da parte della stessa Biblioteca. Ecco, io a questo punto sollecito il Governo, suo tramite Presidente, perché noi molise abbiamo sete di conoscenza e di cultura, e perché vogliamo che la Biblioteca Albino riapra al più presto. E questo perché la lettura non solo migliora la vita, ma forse leggere aiuterebbe anche noi a migliorare il Governo. Grazie. Grazie a lei, onorevole Occhio Nero, in chiusura di seduta.